eccoci qua a mantova iniziamo subito col vedere il castello mantova è un comune italiano con 48 mila abitanti ed è anche il capoluogo dell'anonima provincia lombarda ecco noi siamo arrivati da questo lato della della città ed è anche un ottimo punto per arrivare in quanto ci sono tantissimi parcheggi molto facile parcheggiare quindi da qua si prosegue tutto il tragitto per poi visitare tutta la città in questo video vedremo il castello il palazzo ducale museo archeologico e un giro completo di tutto il centro storico inizialmente ecco adesso qua siamo stiamo entrando dentro nella all'inizio del del paese diciamo così e iniziamo subito anche con con il museo archeologico ecco qua ci sono i vari ingressi del museo e anche del palazzo ducale e ci addentriamo tra poco eccoci qua dentro al museo allora il museo archeologico nazionale di mantova è un museo archeologico situato mantova come dicevamo e nel nel quale era anche raccolto del materiale raccolto in vari scavi ricerche del territorio della provincia omonima e quest'area sorge o nell'area dove sorge il museo all'interno del perimetro del palazzo ducale e di mantova dalla metà del cinquecento fino alla fine dell'ottocento ospitava la sede del teatro di corte de gonzaga poi diventata proprietà comunale nel 1896 e poi fu edificato il mercato dei bozzoli dei bacchi da seta che poi fu destinato al commercio ortofrutticolo e infine donato dal comune di mantova al ministero per i beni e le attività culturali per il turismo affinché se ne incominciasse la ristrutturazione e la trasformazione in un museo archeologico e destinato poi raccogliere numerosi reperti provenienti anche dagli scavi di tutta la provincia di mantova il progetto poi del restauro si è posto come obiettivo di conservare le caratteristiche ambientali architettoniche di un notevole esempio di architettura paleo industriale di fino ottocento mantenendo nell'aspetto esterno originario e la struttura interna del tetto a capriate sorretto da pilastri disposte su due file l'enorme edificio originario è ora tagliato da soli tre solai allo scopo di un utilizzo razionale dello spazio interno e beh niente come collezioni pur utilizzando solo parzialmente l'edificio restaurato nel museo è già proposta l'esposizione di collezioni reperti che spaziano dal neolitico all'età del bronzo all'età etrusca celtica romana medievale rinascimentale e tutti questi materiali sono stati rinvenuti nel territorio mantovano invece poi dall 11 aprile 2014 sono definitivamente esposti all'interno di una teca di cristallo gli amanti di valdaro due scheletri del neolitico ritrovati presso valdaro in prossimità di mantova nel 2007 così denominati perché i due scheletri un uomo una donna furono rinvenuti e abbracciati e niente adesso qui vediamo ancora un po di cose del museo poi si inizieranno i giri in esterno e qua abbiamo un po di cose da raccontare questa è una spada lunghissima che è stata messa dentro questa bacheca è un po storta ma ai tempi sicuramente avrà combattuto poi ci sono va bene molte statuette con qua siamo usciti dal dal museo e ci troviamo esattamente di fronte ecco adesso siamo iniziamo il nostro giro a scoprire un po mantova beh vediamo qualche qualche informazione un po basilare abbiamo detto che che mantova 48 mila abitanti del capoluogo poi dal luglio 2008 la città d'arte lombarda con sabbio neta entrambe accomunate dall'eredità lasciata dai gonzaga che ne hanno fatto tra i due principali centri del rinascimento italiano e anche europeo è stata poi inserita comunque ovviamente nei patrimoni della umanità dell'unesco e data la sua importanza come capitale del prima marchesato e poi anche del ducato è stata rappresentata tra le quattordici ci sta città più nobili del vittoriano come simbolo di madre nobile e nel 2016 il ministero dei beni e delle attività culturali del turismo ha in insignito mantova dal titolo di capitale italiana della cultura nel 2017 invece mantova e la sua provincia insieme a quelle di bergamo brescia e cremona sono state premiate come regione europea e dalla gastronomia sotto il nome di lombardia orientale mantova è stata inoltre città europea dello sport anche nel 2019 mantova è l'unica città intesa come museo urbano diffuso presente sulla piattaforma google arts con più di mille opere digitalizzata 40 mostre visto virtuali in otto differenti musei virtuali durante il nostro cammino facciamo anche qualche tappa nelle nelle chiese più importanti vediamo qualcosa invece di storia di di mantova allora lo stesso argomento in dettaglio cronologia di mantova storie di mantova quartieri storici di mantova stemma di mantova servio dice che mantova era una delle città fondate dall'anticolo popolo degli umbri e venne poi successivamente abitata dagli etruschi ai quali seguirono i celti poi i romani provvidero alla loro cacciata iniziando con le opere di fortificazione e durante questo periodo ebbe i natali il poeta virgilio poi lo stemma dei gonzaga successivo all'anno 1530 i martiri di bel fiore condotti al patibolo nell'anno 1000 iniziò su mantova il dominio dei canossa tetaldo di canossa prima e la contessa matilde ampliarono le loro proprietà e provvidero all'edificazione di chiese e conventi poi dopo la morte di matilde nel 1115 seguirono frequenti scontri con le popolazioni confinanti veronesi cremonesi e reggiane e zelino da romano nel 1246 conquistò la città con il suo esercito ma dopo due mesi di battaglie venne poi sconfitto e cominciò per mantova un'epoca di benessere e in questo periodo venne retto il palazzo del podestà e il ponte dei mulini e la città venne dotata di possenti mura nel 1276 iniziò l'ascesa di una delle famiglie più potenti del tempo i bonacolsi che costituirono importanti palazzi merlati nel 16 agosto 1328 venne ferito a morte l'ultimo dei bonacolsi rinaldo detto passerino ed ad opera di luigi gonzaga spalleggiato dalla famiglia delle scala di verona che ambiva di impossessarsi della città qua ci sono gli scavi archeologici e hanno conservato questa parte perché era importante iniziava poi così la plurisecolare dominazione della famiglia dei gonzaga che regnò su mantova fino al 1707 e fu poi il periodo più importante di mantova che divenne una delle città più in vista e uno dei massimi centri d'arte in europa pisanello leon battista alberti andrea mantegna giulio romano luca francelli lanciarono un'impronta indelebile nell'architettura della città mantova poi subì una guerra di successione un saccheggio opera dei lanzanecchi che nel 1630 diffusero la peste iniziò poi il lento declino di mantova accompagnato dal tramonto della signoria dei gonzaga che nel 1707 lasciò la città in mano gli austriaci seguì la denominazione francese e nuovamente austriaca nel 1815 quando mantova divenne caposaldo del quadrilatero assieme a peschiera verona e legnago poi vabbè l'ultimo dei gonzaga nevers ferdinando carlo riparò a venezia nel 1701 e nel 1852 avvenne l'eccidio di martiri belfiore che anticipò l'unità nazionale e nel 1866 mantova entrò a far parte del regno d'italia qui giriamo un po tutte le piazze più importanti e qua ci vediamo il il rotondo a sinistra e la torre dell'orologio eccola qua e poi la vedremo anche internamente questa torre è un po particolare perché il suo orologio è veramente molto adattato e anche molto complesso come sistema di funzionamento eppure bisogna dire che questi orologi malgrado che sono stati inventati tanto tanto tempo fa se risultano ancora funzionanti e anche precisi adesso faremo ancora uno sguardo nel centro storico e poi più avanti ci addentriamo nelle nel palazzo ducale e poi finiamo con con la torre abbiamo fatto proprio un giro completo della di mantova è molto bella da girare per chi arriva a piedi come come già ho consigliato all'inizio conviene molto parcheggiare dal lato del castello che poi dove c'è anche il mincio per cui da lì c'è un'ottima veduta è un ottimo punto di di arrivo e partenza per girare a piedi mantova secondo me lo si può fare in una giornata comoda vedendo tutto a parte palazzo tè perché vabbè per vedere palazzo tè ci vuole ancora del tempo aggiuntivo ogni posto comunque ai suoi lati belli e nascosti da scoprire e solo girando a piedi con un po' di pazienza e magari essendo anche un po' preparati si riescono a scoprire posti come questo che state vedendo che anche questo è veramente un posto bellissimo da vedere a me piacciono molto questi queste strutture a mattoni così a vista antiche e nello stesso tempo hanno un certo effetto impatto visivo adesso stiamo girando ancora un po per le vie del del centro questo dovrebbe essere il palazzo del commercio ecco adesso tra poco ci dirigiamo verso il palazzo ducale di mantova ecco qua che è un'area molto grande da girare ma è veramente veramente bello il palazzo ducale di mantova noto anche come reggia dei gonzaga è uno dei principali edifici storici cittadini e dal 1308 è stata la residenza ufficiale dei signori di mantova buonacolsi e quindi la residenza principale dei gonzaga signori marchesi e infine duchi della città virgiliana ospitava il gonzaga dominante nel del tempo e sua moglie il figlio legittimo primogenito e gli altri figli legittimi fino alla maggior età nonché agli ospiti importanti aggiunse la denominazione di palazzo reale durante la dominazione austriaca a partire dall'epoca di maria teresa d'austria regnante ogni duca ha voluto aggiungere un'ala per sé e per le proprie opere ed arte il risultato è un'area con più di 35 mila metri quadri che ne fanno una delle regge più estese d'europa dopo i palazzi del vaticano il palazzo del louvre e la regia di versailles la regia di caserta e quella di venaria reale e il palazzo di buckingham il castello di fontainebleu eccetera a più di 500 stanze e racchiude 7 giardini e 8 cortili e vi assicuro che quando sono stato dentro in questo posto non credevo ai miei occhi è davvero notevole questo palazzo è assolutamente assolutamente da non perdere vediamo un po di storia all'epoca buona colsiana e gonzalesca ambienti distinti e separati tra loro furono costruiti in epoche diverse a partire dal tredicesimo secolo inizialmente per opera dalla famiglia bonacolsi e poi successivamente su impulso dei gonzaga fu poi il duca guglielmo ad incaricare il prefetto delle fabbriche giovan battista bertani perché collegasse i vari edifici in forma organica così da creare a partire dal 1556 un unico grandioso complesso monumentale architettonico uno dei più vasti d'europa 34 mila metri quadri che si estendeva tra la riva del lago inferiore e piazza da sordello l'antica piazza di san pietro poi una volta che va beh mertani è morto nel 1576 l'opera fu proseguita da bernardino facciotto che ne completò l'integrazione dei giardini piazze loggiate gallerie esedre e cortili fissando definitivamente l'aspetto della residenza ducale nei quattro secoli di denominazione gonzalesca la reggia si espanse gradualmente sia poi con l'aggiunta di nuove costruzioni e sia modificando quelle esistenti si formarono diversi nuclei che presero il nome di corte vecchia comprendente gli edifici più antichi verso la piazza sordello domus nuova ed edificata da luca francelli corte nuova di fronte al lago costruita invece da giulio romano e successivamente ampliata dal bertani e dal viani basilica palatina di santa barbara costruita dal bertani del complesso facevano parte anche di alcuni edifici e cortili demoliti tra i quali la palazzina paleologa abbattuta nel 1899 e il teatro di corte mappa del palazzo ducale di mantova del 1870 l'interno del palazzo è quasi spoglio poiché in seguito a restrettezze finanziarie i gonzaga iniziarono dal duca ferdinando e alienarono opere d'arte soprattutto a carlo primo d'inghilterra a redi eccetera poi ulteriori spogliazioni furono causate dal sacco di mantova del 1630 dalle sottrazioni del duca di ferdinando riparato poi a venezia nel 1707 epoca asburgica con il governatore imperiale filippo d'assia nel 1716 il palazzo fu nuovamente ancorché parzialmente arredato coi dipinti e sculture arredi provenienti dalle ex residenze ducali di picco e mirandola il cui l'ultimo duca francesco maria secondo nel 1706 era stato dichiarato decaduto per fellonia dall'imperatore giuseppe primo d'asburgo persa la sua funzione di corte polinfunzionale servizio della famiglia dominante il palazzo si spogliato di funzioni e significato tutto per il periodo dominato asburgico e francese per poi nuovamente alla fine della della dominazione austriaca del 1866 e poi da lì assunse sempre più funzioni militari come cardine di piazzaforte che era diventata la città di mantova tra gli ambienti destinati ad uso militare anche era anche ovviamente incluso il castello di san giorgio che è qua attaccato adibito alle autorità austriache anche come carcere che poi furono anche reclusi patriotti italiani eccetera e poi alcuni martiri anche vediamo le funzioni del museo del palazzo ducale con l'annessione di mantova regno d'italia il palazzo divenne parte del patrimonio nazionale e nel 1887 la parte monumentale del complesso architettonico che aveva costituito la corte gonzalesca venne presa in carico dal ministero della pubblica istruzione evento poiché consentì nello stesso anno le prime visite pubbliche del palazzo e si può datare al 10 ottobre 1887 che poi iniziò la funzione museale quando fu istituito da un registro di visitatori eccetera poi al principio invece del novecento il palazzo venne sottoposto alla prima imponente campagna di restauri che interessò soprattutto le strutture medievali palazzo del capitanio magna domus castello di san giorgio e eccetera eccetera nel marzo invece del 1915 finalmente venne stipulata una convenzione fra lo stato le istituzioni locali per la fondazione del museo del palazzo ducale e di mantova l'atto riconosceva e confermava la proprietà d'opere d'arte dal comune o all'accademia virgiliana ma ne consentiva la collocazione sale di reggia gonzalesca il complesso di edifici più prestigioso per la loro esposizione e fruizione da parte del nascente nel ventesimo secolo furono numerose le donazioni legate testamentari fra le quali meritano menzione quelle di annibale norsa virgilio scarpari e altri lo stemma di buonaccorsi e dei gonzaga su una colonna del palazzo ducale e nel corso del ventunesimo secolo il complesso monumentale del palazzo ducale fu colpito dai venti sismaci con intensità insuale e terremoti dell'emilia romagna del 2012 provocare inizialmente danni ad alcune sale del palazzo e quindi in alcune sale forse non sono ancora visitabili perché mi ricordo che qualcosa non era non era visitabile poi comunque fu riaperto le visite turistiche solo parzialmente dovevano procedere al ripristino di alcune parti l'ala del palazzo maggiormente danneggiata nelle scosse è stata una parte che poi è stata riparata poi ben più gravi invece furono i danni causati dalle scosse del 29 maggio che hanno peggiorato le lesioni precedenti e poi colpirono anche il campanile della basilica e anche il castello di san giorgio che comunque vabbè poi alcune cose sono state riparate una uno dei danni peggiori è stato quella della camera degli sposi poi comunque a seguito dei lavori di consolido consolidamento del castello di san giorgio la camera degli sposi fu riaperta le visite il 3 aprile 2015 e poi fu anche allestita l'esposizione di collezione romano freddi industriale mantovano ceduta in comodato gratuito poi ci sono un centinaio di opere d'epoca gonzalesca fra le quali di giulio romani allievi è un frammento della pala della trinità dorata della famiglia gonzaga nel 2011 visitatori del palazzo ducale furono 220 mila che nel 2012 si ridussero a 160 mila a causa degli eventi sismici e poi vabbè per anche poi perché il percorso fu ridotto va bene finisco un paio di cose qua adesso siamo siamo quasi alla fine del palazzo ducale a fine giugno 2016 in occasione di mantova capitale italiana la cultura 2016 visitatori avevano già sfiorato i 200 mila e a fine 2016 sono arrivati a 370 mila visitatori e quindi palazzo assolutamente assolutamente bello se vi piacciono queste questi tipi di palazzi assolutamente da non perdere è uno dei dei più belli che ci siano in italia dico sempre che comunque in italia abbiamo tante cose belle e molte volte non le conosciamo oppure non le ignoriamo invece questa è una è un palazzo assolutamente da vedere e da vedere anche a mantua è perché veramente io io ero già stato ma l'ho riscoperta durante questa gita perché veramente è bella ci sono delle cose che non avevo visto nella mia precedente gita tra cui questo palazzo ducale che non avevo visitato così internamente e quindi è stata una bellissima scoperta rivedere mantova e anche a rivedere nelle le parti interne di questi edifici ogni stanza è più bella dell'altra veramente non una cosa spettacolare vedere tutte tutte queste pareti ovunque ci si gira ci sono queste pareti meravigliose e anche il soffitto bene siamo arrivati alla conclusione del del giro al nostro palazzo ducale adesso ci dirigiamo direttamente alla torre dell'orologio per vedere anche questo capolavoro eccoci qua torre dell'orologio allora come torre dell'orologio è una costruzione rinascimentale situata in piazza delle erbe a mantova e si eleva tra il palazzo della regione e la rotonda di san lorenzo un po di storia di questa torre la torre a pianta quadrata fu retta tra il 1472 e 1473 dall'architetto luca francelli architetto fiorentino a servizio del marchese di mantova ludovico terzo gonzaga sulle basi del preesistente edificio risalente al tredicesimo secolo dalla porta al pian terreno si accede al palazzo della regione e alla fine del 1473 sulla torre venne collocato l'orologio astronomico opera del matematico mantovano bartolomeo manfredi noto anche come bartolomeo dell'orologio e l'orologio poi indicava le ore ordinarie degli astrologi e dei pianeti e altri si rilevava anche il percorso del sole attraverso i segni dello zodiaco le fasi lunari per quasi un secolo fino al 1570 l'orologio funzionava perfettamente e poi in quell'anno tuttavia il meccanismo si guastò e fu poi francesco filopono che matematico astronomo a riportarlo in vita dal 1700 non è più attivo il meccanismo astronomico fu rimesso in moto nel 1989 dal fabbro orologiaio alberto gorla e sotto l'orologio poi fu collocata la statua della madonna immacolata risalente agli inizi del diciassettesimo secolo e poi dallo stesso periodo anche il balcone di marmo e l'ornamento dell'edificio nella parte più alta della torre è collocata è collocata una campana di media dimensione che batte a ore e il terremoto del 2012 provoca le lesioni anche questa torre come avevamo già detto prima palazzo ducale castello e c'è andata di mezzo anche questa torre e poi più tardi è stata riaperta ancora per le visite all'interno è ospitato il museo del tempo nel quale sono esposti i meccanismi dell'epoca dell'orologio finisco il discorso dicendo che la torre dell'orologio è alta circa 15 metri ci troviamo adesso invece davanti al castello quindi dove abbiamo parcheggiato la macchina e siamo vista mincio qui ci sono le varie imbarcazioni con i battelli che partono è possibile a fare anche delle tratte delle escursioni con il battello o altrimenti si può fare una passeggiata sul sul ponte adesso in questo in questo momento ci stiamo ci troviamo sul ponte e come vedete vabbè lì c'è una piccola barchettina ma in realtà ci sono anche i battelli li vedrete tra poco se siete qua a mantova e avanzate tempo si può fare anche un giro sul battello ecco questa è una una veduta dalla dal ponte che si vede il castello bene ecco questo è il punto di partenza del battello ma ce ne sono ce ne dovrebbero essere anche altri bene bene spero che vi sia piaciuto il video alla prossima ciao 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 ciao